Sabato 20 agosto, Reggio Emilia ripuliamoci di nuovo qui a controllare il nostro esperimento sociale del cestino. Allora, purtroppo prima constatazione da fare è che il materiale inerte e ethernet segnalato più volte a Irene è ancora qui presente. Un sacco si è aperto, quindi sta cominciando a perdere materiale e ovviamente si è aggiunto poi sempre quel famoso sacco di cartongesso strada facendo. La cosa bizzarra è che abbiamo trovato questo sacchetto tutto bello chiuso, per carità, lasciato di fianco all'inerti, col cestino lì a 5 metri. Quindi ecco, noi su queste persone qua non ci possiamo fare niente, ho paura, perché con un cestino a 10 metri tu me lo lasci qua di fianco, però sicuramente possiamo constatare una cosa, che i rifiuti, il degrado chiamano rifiuti, perché questo era abbandonato lì di fianco. Invece devo constatare con grande soddisfazione che la piazzola si trova sempre in buone condizioni, non c'era praticamente niente da togliere. Con i soliti due minuti di orologio la piazzola era pulita. Purtroppo lì qualcuno è stato che non si è fermato, ha solo rallentato e ha buttato l'oggetto dal finestrino. Ecco, su quell'altra categoria lì non ci possiamo fare niente, quindi sono due categorie, questa e quella dei lanciatori. Certo va da sé che se il cestino, come vedremo dopo, è pieno, dobbiamo sempre fare una riflessione, ovvero che tutto quel materiale che oggi si trova dentro al cestino sarebbe stato sparpagliato in giro per la piazzola. A tal punto noi abbiamo deciso di sospendere le operazioni di Milagro, quindi Milagro va in ferie, ufficiale. La prossima settimana sarò di passaggio col furgone, lo toglierò. E da lì vedremo l'evoluzione al contrario, in peggioramento probabilmente, della piazzola. Quindi vedremo che tutto quello che ad oggi è qui dentro, la prossima settimana, probabilmente verrà buttato in giro. E nonostante il periodo di vacanze e tutto, devo dire che il sacco ha raggiunto dimensioni anche maggiori rispetto alla settimana scorsa. Dentro abbiamo trovato sacchetti del rusco che sembrerebbero al primo colpo d'occhio di casa. In realtà è roba di merende di ferragosto, perché c'erano piattini di plastica, contenitori di alluminio, quindi roba mangiata diciamo in qualche parco eccetera. Però è stata messa nel cestino. Quindi mi viene da pensare che se non ci fosse stato il cestino, quella roba lì sarebbe stata lanciata o in questo fosso o in un altro fosso a caso nella nostra provincia. Quindi niente da dire, il nostro esperimento è andato a buon fine. Ci siamo presi in carico quattro settimane, lasciamo l'ultima settimana e poi dopo lo toglieremo. E vedremo appunto l'evoluzione al contrario di questa situazione. Grazie a tutti e seguiteci sempre sulle nostre pagine social.